Un grave incidente stradale avvenuto stanotte lungo la strada provinciale Piedimonte Matese a Life coinvolti nel violento sinistro avvenuto per cause non ancora chiare tre persone tutte originarie di Baia Latina. Secondo una prima ricostruzione della dinamica l'auto sarebbe finito prima contro un muretto laterale della gareggiata e poi nel terreno distante. Numerosi i pezzi di motore e dell'auto che sono finiti molto lontano dal punto esatto dell'impatto sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno poi trasportato le tre persone presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Piedimonte Matese, uno dei feriti e in gravi condizioni. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it